Allora, oggi siamo in piazza contro la legge Aprea, una legge che privatizza la scuola e cancella il diritto di rappresentanza. Siamo in piazza per chiedere l'istituzione dei tavoli sull'edilizia scolastica a livello provinciale, perché questa provincia deve rendere conto a noi su come agisce a livello di edilizia scolastica e di sicurezza delle scuole. Proprio una settimana fa una finestra di una scuola di Sova è caduta. Fortunatamente gli studenti sono stati agili e hanno evitato che la finestra di cadessa addosso. Le nostre sono scolastiche a pezzi e noi chiediamo risposte. Siamo in piazza per chiedere che non siano aumentate le ore degli insegnanti da 18 a 24 ore, perché così si blocca ulteriormente la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Non solo questo sta impedito con l'aumento dell'edà pensionabile, ma viene addirittura impedito nuovamente con l'aumento delle ore di lavoro. E noi siamo contrari, siamo in piazza per tante e troppe vagioni, perché la scuola italiana in questo momento sta proprio per morire.